Ben trovati gentili lettori ad un'altra finestra sul filo di nota. Oggi parleremo di città sporca, di aggrigento città invivibile, di aggrigento città che forse è pronta a cambiare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Questa mattina al comune di aggrigento c'è stato un importantissimo incontro con il sindacato SGB nelle persone di Mucci e Baio, con il sindaco di aggrigento, con l'assessore alla rama Aurelio Tropia, nonché vice sindaco, e il consigliere comunale Angelo Vaccarello e l'architetto Gaetano Greco. È chiaro che il sindacato SGB ha mostrato tutti i suoi disappunti per come sta vivendo la città la questione della spazzatura e siccome noi non vogliamo essere minacciati né dagli operai che si astengono arbitrariamente dal lavoro, né possiamo correre il rischio che il comune non può pagare e quindi le impresa non possono pagare più gli operai. A cosa si è divenuto nell'incontro di stamattina? L'incontro di stamattina ha trovato un punto d'accordo con il sindaco di aggrigento Franco Miciche, l'assessore al ramo, nonché, ripeto, vice sindaco a Aurelio Tropia, via le RT da questo territorio e servizio, gestione del servizio in house, dove tutti sappiamo che almeno con questa nuova formula di gestione del servizio della raccorsa dei rifiuti si risparmia non meno del 30% di spese e gentili rettori, voi sapete che noi ad aggrigento paghiamo le tasse più alte d'Italia, fra le più alte sicuramente e questo francamente dopo anni e anni e anni di continuo malaffare, di continua cattivissima gestione da parte dell'RTI, adesso diciamo basta. Perché malaffare? Lo spieghiamo subito, noi non parliamo di soldi rubati, di tangenti o di altro, il malaffare scaturisce semplicemente dal fatto che c'è un servizio che viene pagato a fior di miliardi e la gestione di questo servizio da parte dell'impresa preposta avviene in modo assai, assai, come dire, dubitativo, la città è sporca, la città è una pattumiera, i turisti si lamentano, la giornalista, quella come si chiama, si lamenta, eccetera, eccetera, questa storia non è più praticabile, questa via non è più praticabile, tra l'altro uno dei punti all'ordine del giorno del sindaco Franco Micicchè quando si è candidato era proprio la gestione del servizio in house per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, evitiamo le amicizie sindaco, le amicizie che vanno da tanto tempo a Porta Empedocca con qualcuno dei gestori di questo servizio, con l'ISEDA, il servizio è una cosa, la città pulita è una cosa, l'amicizia è tutt'altra cosa, gentile sindaco, e siccome lei, caro sindaco, è d'accordo con la gestione in house, noi siamo tutti felici. Stesso discorso vale per il vice sindaco, l'assessore a ramo alla nettezza urbana, Aurelio Turpia. Aurelio Turpia quando è stato presidente del Consiglio Comunale negli anni passati aveva un pallino giusto, sacrosanto, quello di togliere le RT di mezzo e attuare la gestione della raccolta dei rifiuti in house. Quindi una città che ha come sindaco Micicchè, vice sindaco Aurelio Turpia, il consigliere comunale Vaccarello presente che era anche esso d'accordo, ci mancherebbe altro, chi non è d'accordo alla gestione in house deve spiegare il perché, chi non è d'accordo deve spiegare il perché, a chiare lettere. Che succede adesso? Succede che l'architetto presenta la riunione di questa, l'importantissima riunione di questa mattina, l'architetto Gaetano Greco, ha un po' come dire storto il naso perché diceva il rappresentante sindacale dell'SGB Mucebaio, ma sai non possiamo fare questo discorso, bisogna vedere perché è grigento, non ha il territorio di Vicenza e noi vogliamo svegliare un attimino un dormiente architetto Gaetano Greco perché pare che stia tormento e dire non c'è bisogno di arrivare a Vicenza per capire come si effettua tutto il risparmio e tutte le migliorie che si ha avendo in un comune la gestione della spazzatura in house. Basta andare a 12 chilometri nella vicina siculiana, cioè il sindaco che ho intervistato io nei giorni scorsi, che è felicissimo, i cittadini che sono felicissimi di non pagare tasse sull'Atari davvero molto molto esosi. Architetto Greco non c'è bisogno di andare a Vicenza o a Milano, basta andare a Siculiana, basta andare a Ravanusa, basta andare a Cammobello di Licata, tutti questi comuni sono virtuosi perché hanno gestito il servizio della raccolta in house. Lei deve fare una cosa anziché Mugugnare, architetto greco, vada a lavorare, vada a fare i conti, vada a fare i conti al sindaco, al suo vice sindaco di come si risparmia il 30% della tassa e di quando i cittadini nelle proprie bollette cominciano a risparmiare finalmente, sarebbe l'ora, il 30% sulle tasse che noi paghiamo, sulle bollette, cominci a fare i calcoli, si svegli, dimostri al sindaco che in realtà, se no glielo vengo a spiegare io, architetto greco, come si raggiunge il 30%, non è il mio compito, deve farlo lei perché è pagato per questo, lo vado a riferire al sindaco, lo vado a riferire all'assessore vice sindaco, così poi il primo cittadino avrà l'obbligo e cura di comunicare ai cittadini come avvengono, come avviene il risparmio del 30% delle nostre tasse. Questa è una storia che noi porteremo avanti e siamo in attesa di vostre notizie. Noi ci vediamo alla prossima finestra sul filo di nota. Buona serata a tutti.